buongiorno ragazzi da ultracinoco games e armando gamer buongiorno un'altra partita mandare in forma ragazzi è la seconda vittoria consecutiva adesso facciamo le spagnole spagnole la liga basta reale classico ci vediamo ma la spazia reale ma c'è un cittadino un'altra 8 ora si riesce a fare un po' gioco non si parlo o cap del piano e forte o bestia e ce? cam bella forte aia glormezi . 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 6 questa macchina 6 6 6 pure 4 la spagna costa lito Vitto, Vitto, Fernandez, Morino, Sabina, Casparra, vabbè. Ma è la promozione. Grazie a questa partita. Se facciamo cosa si ripeterà successivamente. No, fa morire la mano. Qua? Qua? Ah, la squadra per. Ah, la squadra per. Vabbè, la faremo in giro prossimo. Vado a volarmi. È lungata! La parma non c'è, spasseggia. Oggi lo vorrei oggi. Oggi lo vorrei oggi. Ma no. Ce l'ho appriso tenuto. Ma tu c'è il teatro. Gli apri me. Sopri. 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 Oggi mi vieni, gatti. Oh. I limiti. è sempre incoraggiante arrivare quel premio al tiro in porta questo dovrebbe mettere la partita in discesa per loro è sempre un supermercato di cosa che questo fa un mani con un sani è sempre un bel premio al passaggio il tuo non c'era molto è sempre un esempio di quante possono essere i tagli di questo tipo di unità non è solo che le istituzioni iniziali è sempre pazionale se non c'è il mio mani ci sono presi due cose già due volte nel tempo vogliono vincere questa partita e si vede l'ingroce dei pali che diceva da realtà al passaggio ecco, lo fa il tre ciò 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 lo santo quanto l'idea del passaggio era giusta gli è aumentata la sensibilità nell'esecuzione del gesto tecnico l'esercizio del gioco è un'esercizio del gioco lo santo lo santo lo santo spazzano aulio 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 se continuo così prima o poi a partita da sotto avanza! avanza! le spagnole! no no sicuro no! così da! no così da! un solito non è stato molto lungo non è stato un'occhiaire il suo frattamento non è stato un'occhiaire ma sono una nuova però è stato un'occhiaire il suo frattamento è una luce la città è una cosa è una cosa è un'occhiaire è un'occhiaire un'occhiaire ottima, ha fisso il titolo ed è riuscito ad anticipare la versata bene un po' di ci hanno tanto santo oh no, veloci veloci il titolo il titolo il titolo il titolo il titolo guarda ben bassa sono stato la stessa non ce l'ha fatto non mi sembra se la Luisa ci vede, la soffertivo ci vanno per rimanere sto stanca da voi eh Lucci, cambia la tua uscita suono sono male con Vigia nooo ahhhh pittà 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 tre giocatori di Volta in Dance che tre? sobbene un come è un assurdo non ci ci fai se li guardi questo è proprio il giocatore che viene non ci ci fai di roste ehi ehi uff 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 la c'è l'uff tre tass no, da me ne ho detto che ti sembra e ti dico lei è reale lo santo lei è reale la reale la reale si è venuto a spettare scuola la realizzazione la realizzazione primo tempo è un nuovo culo il sguente il secondo tempo stai cittura si vede e' un po' di gioco rita, rita, si vede già fanno già che si sa che cazzo è tirata che si fa felice, si fa felice che si fa felice pensate che anche gioco e' me che mi parla bene Noi, 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 noi. Quanto male? Spoon fanno? Jaa, do, spoon. Oh, ma scontano! Noi, scontano! E niente, che vero. Non c'è lato. Ho fatto la mia pancia, solo qua. Anche qualcuno è un progetto, non c'è l'altro la mia pancia. Di si tratta di un progetto. Io non ho bisogno di un progetto, non si tratta di un progetto, non ha più condivido. Oggi è venuto in un progetto con un progetto con un progetto con un progetto che faccia non fa. Ma cosa le date? A casa, in un progetto! eravamo la registro carriamo la città di insieme scusacchio l'uomo non è vero santo ucce ucce che cazzo è ucce è una standard ucce 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 rap counter access no l video i 3 a 0 3 mario 3 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 4 3 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 6 7 7 7 7 7 7 7 8 8 8 7 8 5 6 9 10 10 10 11 11 12 12 13 14 14 15 gioco gioco animale il gioco la vita ma c'è stile è un po' di amare e' un po' di amare è che è un po' di amare che cosa dicevi? è che adesso non è un po' di amare ma non è un po' di amare non so c si muove a pubblicità la fanguolo fanguolo 4-0 toleata questa quella la mette quanti forse la riuscita eh? quanti forse stai sfumando 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 e' pira no 4-1 no ma tu fai io che faccio togli stati su quattro e 1 febri eh? no quattro e 1 lisa salve ti risalutiamo dal tuo video e' il mondo gamer percibure cose buone cose